GF VIP 7, Ginevra Lamborghini, con Antonino Spinalbese c'è legame molto intenso Sanremo 2024, c'è andrei di corsa. Class uguale P1 Ginevra Lamborghini è stata una delle protagoniste dell'ultima edizione del GF VIP 7. Class uguale P1 dall'esperienza all'interno della casa andando a ritroso fino alla sua infanzia. La ragazza si è raccontata a cuore aperto al settimanale TV Sorrisi e Canzoni, in edicola oggi. Class uguale P1 Ginevra ha raccontato come ha ricevuto la proposta di entrare nelle reality da parte del conduttore, Alfonso Signorini. Class uguale P1 Ginevra ha poi rivelato quale sia stato il momento più bello nella casa. Class uguale P1 è il più brutto. Class uguale P1 una Lamborghini ha voi svelato cosa si è portata a casa da questa esperienza. Class uguale P1 tra i diversi concorrenti, Ginevra ha rivelato di riferirsi ad un Vipone in particolare. Class uguale P1 una Lamborghini ha poi parlato della sua infanzia. In particolare, Ginevra ha raccontato che da piccola era molto timida e che solo crescendo grazie agli amici, ha tirato fuori la sua esuberanza. Nonostante sia più estroversa. La Lamborghini ha confidato di essere anche malinconica. Class uguale P1 non poteva poi mancare una domanda sulla sorella, Elettra Lamborghini. Ginevra però ha tagliato corto, sottolineando che al momento non hanno nessun tipo di rapporto. Class uguale P1 infine, Ginevra ha svelato delle belle novità sul fronte musicale e ha ammesso che non disdegnerebbe il mondo televisivo. In particolare, non potrebbe mai dire no al Festival di Sanremo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.